La crisi siriana è stato il tema al centro dei colloqui tra il ministro degli esteri Giulio Terzi e il suo collega turco Davutoglu il 12 novembre Abilla Madama. I due omologhi hanno manifestato il sostegno alla nuova alleanza delle opposizioni che si è costituita a Doha. La riunione di Doha ha rappresentato un punto di convergenza importante con la creazione di questa alleanza per la Siria nella quale tutte le componenti si riconoscono e che viene posta sotto la presidenza dell'imam Al-Khatib. Il ministro Davutoglu è stato un attore molto rilevante di questo processo. Non sono entrati gli aerei nello spazio turco, però sono arrivati talmente vicini che diventano una minaccia per la sicurezza turca. Certo non è stato violato lo spazio aereo. La questione siriana non riguarda solo la Turchia o pochi altri paesi, ma si tratta di un eventuale rischio di sicurezza che coinvolgerebbe tutto il mondo. La comunità internazionale è ancora silenziosa e contro la coscienza umana la Turchia soffre. Tutti soffriamo, i turchi in Italia soffrono e noi insistiamo perché ci vuole una risposta chiara. Dobbiamo dare sostegno molto esplicito all'opposizione che si è riunita. Il titolare della Farnesina ha anche ribadito che l'Italia non interverrà militarmente in Siria, ma continuerà ad essere impegnata sul fronte degli aiuti umanitari. Noi non riteniamo di dover intervenire in alcun modo sul piano militare a titolo nazionale e non vediamo esservi le condizioni per la comunità internazionale per intervenire in modo collettivo attraverso un mandato del Consiglio di Sicurezza che adesso non c'è e che è l'unico modo che potrebbe dare legittimità a un intervento e a un'operazione di pace. Noi intendiamo continuare a canalizzare aiuti in emergenza. Abbiamo individuato circa 20 milioni di euro come fondi necessari per i prossimi mesi per soccorrere le popolazioni, soprattutto i rifugiati, nei paesi vicini, in Turchia, Giordania e Libano, ma anche per dare sostegno alle popolazioni all'interno della Siria. L'incontro Terzi da Vutoglu è servito anche a fare il punto sulle ottime relazioni bilaterali, commerciali e culturali e a mantenere uno stretto coordinamento sulle principali questioni dell'attualità mediterranea e medio orientale, tra cui Libia, Balcani, Corno d'Africa e sul tema del terrorismo. Terzi ha anche confermato il sostegno alla liberalizzazione dei visti e alle aspirazioni europee della Turchia, considerata un paese produttore di stabilità alla frontiera orientale dell'Europa. Grande desiderio che abbiamo noi italiani di vedere la Turchia muoversi positivamente in un percorso sempre più di integrazione, integrazione di mercati, ma anche integrazione di rapporti umani attraverso una politica di liberalizzazione dei visti che a giudizio del governo italiano ha tardato sin troppo e deve essere adesso praticata concretamente. L'Italia è l'avvocato della Turchia in tutto il sistema dell'UE, lo constatiamo. Ogni singolo passo che viene fatto per la liberalizzazione dei visti è un nuovo respiro per la Turchia sulla strada dell'adesione all'UE. Abbiamo parlato anche della questione di Cipro nel contesto UE e ho riferito la nostra prospettiva. Siamo a favore di dare ogni singolo contributo che possa garantire una pace stabile e continua. La bilaterale è poi proseguita nel formato allargato del foro di dialogo italo-turco che ha visto la partecipazione di rappresentanti della società civile dei due paesi.